Ti torno a Catanzaro con quali prospettive? Diciamo che spero di fare il meglio, so che comunque c'è aspettativa perché quando sono stato qua ho lasciato un bel ricordo e quindi spero di fare il meglio per questa maglia e per questa città. Appena arrivato già i primi applausi perché Catanzaro ricorda le tue prestazioni, dove giocherai? In quale zona di campo quest'anno? Centrocampo, posso fare sia la mezzala che davanti alla difesa, penso che comunque almeno in linea di partenza verrò impiegato come mezzala e poi comunque all'occorrenza posso giocare anche davanti alla difesa. Hai preso il patentino UFAB da allenatore, sarai un secondo allenatore in campo? No, no, diciamo che il patentino l'ho preso volentieri perché comunque mi allenavo a Coverciano con gli svincolati, c'era anche questa possibilità, però insomma allenatore ancora è presto. Il tuo stato di forma visto che già hai fatto un po' di ritiro? Sì, no, mi sono allenato sempre, chiaramente i ritmi non sono gli stessi che con la squadra quindi avrò bisogno un po' di questo periodo prima che inizi il campionato per prendere il ritmo che hanno gli altri e insomma arrivare in condizione per l'inizio del campionato. C'erano altri calciatori che già conoscevi in questo nuovo Catanzaro? Beh, diciamo che di nome li conosco un po' tutti, però l'unico con cui ho giocato insieme proprio è Gambaretti che abbiamo giocato insieme a Cremona un paio d'anni fa.